Sono stati quelli legati alla sanità e agli ospedali San Luca e Versilia i temi di fondo della conferenza tenuta da Riccardo Zucconi, candidato per il centrodestra al collegio uninominale Toscana 1 della Camera, insieme a candidati della lista Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli per il proporzionale della Camera e Marisa Staccioli per il proporzionale del Senato. Accanto a loro il segretario comunale dei Fratelli d'Italia Marco Chiari. Durante la conferenza stampa è stato annunciato che verrà richiesta in occasione del Consiglio Comunale di martedì una commissione d'inchiesta, dato che, secondo Fratelli d'Italia, non ci sarebbe stato controllo da parte dell'amministrazione comunale sul funzionamento delle RSA. Non riusciamo più in Italia addirittura, e la regione toscana è una delle non eccellenze in Italia, non riusciamo più a curare la gente. Quindi chi ha denaro può risolvere attraverso le cliniche private, le cure private. Chi invece non ha queste possibilità economiche è costretto a cose incredibili. Le liste d'attesa per esami anche importanti sono lunghissime e a volte bisogna spostarsi di molti chilometri. Quindi è una sanità sbagliata. È una sanità che ha fatto perdere addirittura a Lucca la possibilità di usufruire della guardia medica nelle ore notturne, portando ad esempio a un sovraffollamento nel servizio del 118, che è fonte di enormi disagi per le persone.